Io condiviso il pensiero del governatore Banca Italia. Lui ha presentato una visione di come il nostro Paese possa di nuovo invocare la via della crescita e dello sviluppo affrontando tutte le grandi sfide che l'Italia ha davanti, il debito pubblico, l'inverno demografico, il calo di produttività. Penso che la parola magica è crescita. Il Paese deve riprendere convintamente la via della crescita che significa per noi il rilancio degli investimenti pubblici e privati, un potente intervento sull'innovazione, bisogna alzare e recuperare quote di produttività, bisogna migliorare ancora di più i tassi di occupazione soprattutto quelli femminili, giovanili, al sud in modo particolare. Da questo punto di vista noi pensiamo che il contributo che può dare la popolazione migrante è decisivo ad una condizione che gli ingressi siano regolari e che le persone che arrivano vengono accompagnate attraverso interventi di accoglienza, di integrazione, di inclusione.